Perché mi piace l'idea di aprirmi un'attività e di imparare tante cose dal fattore documenti, fatture, tutto quello che non so. Perché comunque io, essendo pasticcere, so fare la roba e portarla al banco. Ma tutt'altro di contabilità è, quindi in questo corso vorrei capire bene. E questo è qua, tutta la parte, diciamo, contabilità e documentaria di quella di un'azienda. Allora, per la prima pasticceria è perché comunque già da molti anni ho fatto questo lavoro e adesso vorrei mettermi proprio in prova perché ho fatto esperienze sia a Pappalermi che in Belgio e, diciamo, ho succhiato sia da qua da qua, quindi mi sento adesso all'attezza di avere una pasticceria. e questo, diciamo, un corso mi aiuterebbe a comprare le macchine, i forni, diciamo, tutto quello che già io so che è tutte le altre stature, diciamo, del locale. Sì, appunto, che comunque, per i soldi, diciamo, per il fidanziamento soprattutto, cioè comunque avendoci, avendo un'attività, non avendo un capitale conservato, quindi questi soldi mi aiuterebbero molto a realizzare 10 mili miei soldi. Passa parola, tramite amici, mi ho detto che c'era questo corso. Sì, sì, lo consiglierei perché comunque oggi sono già alla seconda giornata, questa è molto interessante, sì, lo consiglierei.